manca qualcosa a casa ma come faccio a dirlo e paternò ha messo tutto in disordine bisognerebbe riordinare prima no paternò le tovaglie vanno nel terzo cassetto allora mancano tre pantaloni quattro camicie rasoio dopo barba cinque mutande paternò le cose invernali vanno in camera da letto sopra l'armadio e poi manca l'orologio e cinque o sei paia di calzini non so perché ce n'è un paio porto che non mi ricordo se li ho buttati o arrammendati abbiamo capito è scappato abbiamo capito va bene ma che è sto conclave di femmine qui voi tre insieme alle sette di mattina che ci fate siamo amiche